Come ha trovato la Sagra quest'anno? Molto bella, c'è tanta roba, basta comprare che c'è di tutto e di più. È la prima volta, ci sono capitato per caso, ma penso che ci tornerò, sinceramente parlando, perché per adesso mi ha dato un'ottima impressione. La Sagra quest'anno è molto bella, è ben organizzata, come sempre, c'è sempre il rispetto delle nuove Covid, quindi è un'esperienza positiva visitarla. Per lei la Sagra quest'anno com'è? Bellissima, come tutti gli anni, piena di spunti, di idee, di iniziative, magica, come sempre. Come ha scoperto la Sagra? Lo sapevo che c'era la Sagra, anche perché noi siamo qui in provincia di Lecco, però non ho mai avuto occasione di visitarla. E fino adesso? È molto bella, sì, soprattutto perché ho le bambine e hanno approfittato delle giostre. Siamo rimasti molto contenti a visitare questa fiera, perché con tutti i pronostici non ci aspettavamo così tanti espositori e soprattutto stand originali, diciamo che è ritornata un po' la Sagra di un tempo. Niente, purtroppo. Ma gli articoli che ha trovato sono stati di suo gusto? Sì, sì, guardo i sacchetti, quindi ho comprato anche. Dicono che non si esce mai a mani vuote. Quello è vero, qualcosa si porta sempre a casa. Finalmente un po' di spazio, un po' di gente in libertà, sinceramente. Molto, molto ben attrezzata, come al solito. Tantissima, un po' di gente, bella, sì. Ho trovato tutto quello che ho cercato fino adesso, che mi ha soddisfatta, anche il pane e tutto. Sì, sì, tutto bello. Bellissima come tutto il resto degli altri anni. Non c'è niente da dire. Organizzata benissimo, bellissima. Cosa ha trovato di sfizioso? Troppe cose, troppe cose sfiziose. Cose da mangiare, buonissime, prodotti artigianali, tutto bellissimo.